La leggenda inquadra nell'anno 753 a.C. la fondazione di Roma. L'arte romana ha una funzione ben precisa, che è sia politica che sociale, ossia quella di esaltare la grandezza stessa di Roma. Questo perché i romani sono dei conquistatori, la loro civiltà è basata sulla guerra e sull'egemonia dei popoli. Dunque, in quest'ottica, l'arte romana inizia a delinearsi proprio a seguito delle prime grandi vittorie, come per esempio dopo la conquista della Grecia nel 146 a.C. Teniamo presente che l'arte romana riprende molti concetti e molti temi utilizzati dall'arte greca, come per esempio gli ordini, l'ordine dorico, ionico e corinzio, poi ne inventerà altri due, ossia l'ordine tuscanico e l'ordine composito. Ma lo fa in un'ottica diversa, ossia non quella dei greci di cercare e di trovare una bellezza ideale, ma quella appunto di celebrare la grandezza di Roma. L'arte romana diventa quindi un mezzo di celebrazione delle conquiste, delle battaglie vinte. I romani sono anche degli ottimi progettisti e curano la funzionalità delle città, come nessun popolo ha mai fatto. Sono dei costruttori di acquedotti, di ponti, di strade, fogne, terme, anfiteatri. Tante di queste opere sono arrivate integre fino ai giorni nostri, tra l'altro, e sono ancora perfettamente funzionanti. L'abilità dei costruttori romani si concretizza nell'utilizzo dell'arco, delle volte e delle murature. I romani riprendono la struttura dell'arco che, ricordiamoci, fu utilizzata in maniera consapevole dagli etruschi, ma fu scoperta e utilizzata per la prima volta molti millenni prima dai babilonesi, per esempio nella porta di Ishtar. Essi capirono appieno quindi la potenzialità strutturale del sistema d'arco rispetto al sistema trilitico, che per esempio veniva utilizzato dai greci nei templi, e appunto l'arco permetteva di lasciare più spazio tra i due appoggi verticali, tra i due piedritti, le due colonne. Questo spazio viene anche chiamato luce. L'arco poteva avere uno sviluppo tridimensionale, ossia la riproposizione dell'arco lungo una direzione prendeva il nome di Volta a Botte. Questa tipologia di copertura veniva utilizzata per le basiliche, per esempio. La rotazione, invece, dell'arco permetteva di costruire una cupola, e anche questo elemento strutturale veniva utilizzato per coprire basiliche o templi, come per esempio al caso del Pantheon. Nella sua forma semplice, invece, l'arco serviva per costruire acquedotti, fognature e ponti. I romani erano degli abili costruttori di murature, tra le quali citiamo l'opus incertum, che era caratterizzato da due file esterne di pietre irregolari tenute insieme da un getto centrale di malta cementizia. Teniamo presente che i romani fanno un grande uso della malta cementizia, mentre i greci, per saldare tra di loro due blocchi di pietra, per esempio, usavano delle colature di metallo fuso. Poi abbiamo l'opus reticulatum, che era caratterizzato da due file esterne di pietra a forma di tronchetto di piramide, ben squadrata. Anche queste erano tenute insieme da un getto centrale di cemento. Esternamente il disegno che si percepiva era un reticolo romboidale. Questa tipologia di murature era particolarmente difficile da realizzare, per questo anche più care economicamente, tant'è che veniva utilizzata per le opere più importanti o per i clienti più facoltosi, più ricchi. Infine abbiamo l'opus latericium, che era caratterizzato semplicemente da due file esterne di mattoni cotti, lasciati faccia a vista, e da un getto centrale di malta cementizia. Dopo aver visto le murature, passiamo ora alle città romane. Nella realizzazione delle nuove città, i romani erano sempre molto attenti alla forma e alla configurazione, che era reticolare, così come avveniva negli accampamenti militari. Le due strade principali erano ortogonali e distribuivano delle strade secondarie. Queste strade principali prendevano il nome di Cardo e Decumano. L'incrocio di Cardo e Decumano era quasi sempre rappresentato dal foro. Altre architetture tipicamente romane erano le colonne commemorative e gli archi di trionfo. Queste due tipologie architettoniche rappresentavano l'eccellenza a livello di propaganda militare e avevano la funzione di celebrare le vittorie ottenute in guerra. Le colonne potevano essere decorate tramite un fregio continuo che risaliva a lungo tutto l'elemento, come una spirale che narrava appunto questi avvenimenti bellici. La tecnica scultoria utilizzata era quella del basso rilievo. Anche nel caso degli archi di trionfo si utilizzavano i bassi rilievi per descrivere le battaglie, però in questo caso ciò avveniva all'interno di zone ben delimitate, come dei pannelli. L'arco aveva il compito di accogliere le truppe lungo la strada di ritorno dai campi di battaglia. I romani furono anche indiscussi maestri nella realizzazione di grandi opere, come gli anfiteatri. Rispetto al teatro greco, l'anfiteatro romano non poggia su una collina preesistente e quindi non sfrutta l'andamento naturale del terreno, bensì viene costruito in altezza, su una zona pianeggiante. L'anfiteatro più importante è certamente il Colosseo, il cui vero nome è Anfiteatro Flavio. Venne costruito a partire dal 70 d.C. per ospitare i giochi e le lotte tra gladiatori. Aveva una pianta ellitica e dimensioni molto importanti. Il lato lungo misurava 188 metri e il lato corto 156. Esso costava di tre ordini di arcate, ordine dorico alla base, poi aveva lo ionico ed infine il corinzio e si sviluppava per un'altezza di circa 50 metri. Pensate che poteva ospitare ben 50.000 persone. Altra opera monumentale e di notevole importanza fu il Pantheon, che era un tempio dedicato presumibilmente a tutti gli dèi. Esso fu fatto costruire nel 126 d.C. da Adriano ed è caratterizzato da una pianta circolare con sviluppo cilindrico, coperto con una cupola di ben 43 metri. All'ingresso era presente un porticato, un pronao. Per secoli il Pantheon è stato un modello di perfezione e per questo venne imitato nelle sue forme. Vediamo ora le abitazioni tipicamente romane. Nelle città, appunto, erano presenti due tipologie di abitazioni, l'insula e le domus, mentre nelle campagne si costruivano le ville. Le insule erano delle case costruite su tanti piani, fino a dieci, tutte addossate tra loro, un po' come i nostri attuali isolati urbani. La densità abitativa era particolarmente elevata perché le stanze erano molto piccole e spesso servite da spazi comuni. Solitamente, come avviene ancora oggi, i piani terreni erano destinati al commercio, erano quindi delle botteghe. La domus era una casa unifamiliare per famiglie agiate e possedeva un cortile interno peristilio che illuminava le varie stanze che ivi si affacciavano, le cubicula. Erano quasi sempre case ricamente decorate con statue, mosaici a pavimento e decorazioni pariettali. Le ville erano ricche residenze di campagna che si sviluppavano su più edifici annessi e quasi sempre constavano anche di un'azienda agricola o portuale, se per esempio erano vicine al mare. La villa certamente più famosa fu quella dell'imperatore Adriano a Tivoli. Per quanto riguarda la pittura, le uniche testimonianze giunte fino ai giorni nostri sono esclusivamente derivanti da dipinti murali delle case romane. Esse sono caratterizzate da un grande realismo perché i romani conoscevano e sapevano utilizzare in maniera intuitiva la prospettiva che fu poi codificata durante il Rinascimento. La tecnica utilizzata era quella dell'affresco che consisteva nel dipingere sull'intonaco ancora fresco lucidato infine con delle polvere di marmo. Questi dipinti avevano delle colorazioni particolarmente vivaci. Secondo lo storico Vitruvio fino alla tragedia di Pompei del 79 d.C. abbiamo quattro stili di pittura. Il primo stile, che va dal 200 a.C. al 90 a.C. detto a incrostazione dove le pareti venivano decorate creando l'effetto di pannelli di rivestimento in marmo. Abbiamo poi il secondo stile, che va dal 90 a.C. al 20 a.C. dove le pitture imitavano i rilievi architettonici con un buon utilizzo tra l'altro della prospettiva e dell'illusione eotica. Abbiamo poi il terzo stile, che va dal 20 a.C. al 50 d.C. che era caratterizzato da scene di paesaggio alternate anche a temi mitologici. Infine abbiamo il quarto stile, dal 50 d.C. al 79 d.C. dove si ripropongono i temi del secondo stile in maniera però più sontuosa esaltando ancora di più le illusioni prospettiche.